saluto a tutti ragazzi ben ritrovati benvenuti ho una notizia molto bella per quanto mi riguarda finalmente dopo cinque anni di lavoro il libro the big fish of darts è disponibile su amazon quindi potete ordinarlo comprarlo e poi allenarvi ci sono tre mesi di allenamento che parte dal principiante fino al professionista ci sono un sacco di cose spiegate di tecnica di tutte le cose che ho spiegato in tutti questi quattro anni che sono su youtube 156 pagine a colori dove potrete studiare allenarvi rivolto a tutti quelli che devono cominciare quelli che sono già giocare per allenarsi e per dare a questo sport un senso fantastico perché bisogna allenarsi poi tutti gli allenamenti che ci sono sulla sul libro io li farò e quindi li faremo insieme e andremo avanti per tre mesi facendo gli allenamenti insieme detto questo the big fish of darts su amazon vi lascio sotto in descrizione dove potrete andare a comprarlo grazie sarebbe una cosa gradita anche per voi saluto a tutti